L'Aquila Calcio prepara la festa. In città si respira un clima di grande entusiasmo a qualche giorno dalla gara esterna contro il capistrello già salvo. A disposizione dei tifosi rosso-blu ci sono 450 biglietti e gli aquilani già ne hanno acquistati circa 400. La vendita dei biglietti sta andando benissimo, ne sono rimasti pochi fortunatamente. La gente sta rispondendo bene e la città anche. Cosa gli dà da mangiare che questi corrono così e vincono così? Gli do veramente tanto amore, la mia grande passione è tutto quello che faccio e loro si meritano veramente tanto. Gli aquilani preparano l'esodo quindi per il ritorno in Serie D e vogliono essere davvero il dodicesimo uomo in campo, a sostegno di una squadra che ha saputo conquistare e che si augura di riaccendere sempre più un entusiasmo che si era spento. Ma che grazie all'attuale società, gestita in maniera impeccabile dai tifosi, del resto non a caso l'Aquila e la squadra della gente, ha riportato gente allo stadio pian piano. Siamo pronti, io sono un tifoso storico redento, sinceramente perché dopo l'ultima delusione avevo mollato. Poi mio nipote mi ha ricoinvolto e adesso spero che festeggeremo al più presto, insomma. Anche perché l'Aquila è una piazza che non può stare assolutamente in queste categorie. Va fatta una nota di merito a questi ragazzi che hanno ripreso la società dalle ceneri. Il cammino del rosso-blu di mister Massimo Epifani, del resto, è stato davvero entusiasmante perché c'è un gruppo di uomini e giocatori ben saldo e rigoroso. Innanzitutto speriamo che sia la partita della Serie D. Noi ci stiamo preparando con grande voglia e con grande forza a cercare di andare a vincere perché la vittoria ci dà la matematica. Respiriamo in questo ambiente di entusiasmo, ma dopo Città-Sandangelo, dopo la partita con l'Angolana si respira un'area diversa. Qui dobbiamo essere bravi noi a cercare di ovattarci e di concentrarci per la partita, ma io personalmente sono contentissimo della situazione ambientale che si sta creando perché poi era uno degli obiettivi che mi ero posto quando sono venuto qui all'Aquila. Cercare di vincere, cercare di riportare un po' di entusiasmo in una piazza dove ho avuto tante delusioni e di questo ne sono veramente orgoglioso e felice per gli Aquilani. Vedere domenica anche molti bambini allo stadio è una cosa bellissima, ma questo è frutto anche del lavoro della società dove nelle ultime settimane siamo andati nelle scuole, abbiamo cercato di incontrare ragazzi, abbiamo cercato di coinvolgere i nostri bambini, però la cosa che si respira è l'entusiasmo che i tifosi aquilani stanno avendo, si stanno riavvicinando piano piano e li capisco, però credo che sia una cosa bella. Quando si vince bisogna festeggiare, siccome si vince in un arco temporale poche volte, quando si vince bisogna festeggiare e credo che gli Aquilani in questo momento si meritano di festeggiare.